Signorissima, avete mai pensato di venire a Venezia e scoprire la città senza dover pagare centinaia di euro per delle noiosissime guide? O altrimenti non scoprire la città e girare come dei beoti? Ah che bello questo labirinto! Ecco, ho trovato la soluzione! Ho ho ho, Daddy Sloan, il pappo di scoperta è arrivato, buon Natale! Ragazzi, ho fatto una mappa che costa una chiavata e domenica faccio una live, ve ne parlo, ve la venderò, sarà a metà del prezzo E con questa mappa voi potete girare Venezia e scoprirla come, quando volete voi Senza stare dietro a delle vecchiacce che vi spiegano delle robe o sbronzandovi perché non sapete dove vi trovate Questi sono gli occhi di scoperta C'è una mappa nel cellulare da dove potete scoprire Venezia andando dove cazzo vi pare Decidete di andare a vedere questa cosa qua, schiacciate, ci andate Decidete di andare a vedere un'altra, schiacciate, ci andate È Google Maps fuso col viaggio di scoperta Adesso, io non voglio dire, eh, ma dovevo proprio arrivare io per inventarmi queste robe